covid crescono i ricoveri negli ospedali marchigiani sicurezza stradale la regione investe 11 milioni nei progetti dei comuni il rompe all'arpam danneggiando uffici con un estintore arrestato pesarese monbaroccio il beato sante prossimi set di un film hollywoodiano una buona serata a tutti voi telespettatrice e telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news apertura di telegiornali in questo martedì 2 novembre che dedichiamo all'andamento della pandemia perché purtroppo salgono a 80 i ricoverati nella regione marche di cui 20 in terapia intensiva numeri che arrivano dall'odierno report del servizio sanitario regionale che denota il più alto numero di pazienti indegenza negli ultimi mesi in una escalation piuttosto rapida considerando che a metà ottobre i ricoveri erano 54 sono dunque aumentati di 26 unità in appena due settimane e in 8 unità soltanto rispetto a ieri un dato di certo imparagonabile ai 334 ricoveri dell'inizio novembre del 2020 ma è un trend di crescita che comunque sta preoccupando tutta la macchina sanitaria regionale più contenuto il dato sui contagi sono 42 i nuovi casi di cui 23 in provincia di pesaro urbino in una giornata con una percentuale di positività al contagio di poco superiore al 3 per cento da segnalare purtroppo un altro decesso si tratta di una donna di 95 anni di porto san giorgio ed ora cambiamo argomento perché sono 23 i comuni della provincia di pesaro urbino che hanno visto i loro progetti di sicurezza stradale beneficiare di finanziamenti di bandi della regione marche il servizio ammontano a più di 11 milioni di euro i finanziamenti assegnati dalla regione marche ai comuni per aiutarli a rendere più agevoli e sicure le strade di loro competenza è questo il risultato dei bandi in cui la regione ha messo a finanziamento 139 progetti su 215 depositati dai comuni per quel che riguarda la provincia di pesaro urbino saranno 23 i comuni che beneficeranno di finanziamenti da utilizzare su interventi di pavimentazione stradale consolidamento punti asfaltature percorsi ciclopedonali o miglioramento della viabilità al centro per l'impiego di pesaro l'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli ha riunito buona parte dei sindaci interessati per la presentazione dei suddetti bandi la regione Marche investe ben 11 milioni del proprio bilancio per attivarne altre 9 quindi 20 milioni di euro che verranno messi a terra che vanno a finanziare i comuni come ben si diceva non si vanno più a finanziare ad inseguire le emergenze ma si vanno a programmare interventi per la sicurezza e il decoro urbano nella terra stradale di competenze dei comuni questo per evitare in futuro che si creino proprio quelle emergenze sulla sicurezza nel regolamento dei bandi è previsto che ai comuni sia richiesta una compartecipazione di almeno il 30 per cento per quel che riguarda i costi di realizzazione una quota che aggiunta agli oltre 2 milioni assegnati dalla regione porterà a un investimento complessivo superiore ai 3 milioni di euro sulla provincia di peso urbino provincia che vede 23 comuni interessati ovvero monte calvo in foglia sasso corvaro auditore lunano monbaroccio mondavio mondolfo gabice mare piobbico san lorenzo in campo cagli frontone macerata feltria pergola pian di meletto terre roveresche cantiano monte grimano terme san costanzo a pecchio urbania valle foglia e il capoluogo pesaro essendo stato sindaco per dieci anni in un comune della nostra regione ritengo che i sindaci vadano sostenuti in questa azione volta a garantire la sicurezza dei cittadini vista la penura di risorse che a volte nei bilanci vengono vengono destinate alle infrastrutture e alla sicurezza quindi un intervento sistematico che riguarda tutta la regione e che coi che copre le esigenze di almeno il 62 per cento dei comuni marchigiani per la prima volta non si assegnano risorse ad hoc a quel sindaco o all'altro comune ma si assegnano importanti risorse regionali sulla base di un bando della regione marchia cui tutti hanno potuto partecipare e apriamo la pagina della cronaca un giovane peserese in preda ad ubriachezza molesta si è reso protagonista di una insensata irruzione notturna all'interno della sede dell'ARPAM dove ha danneggiato uffici e documenti vediamo il servizio è stato un halloween tranquillo e in sicurezza quello appena trascorso in provincia di pesero urbino eccezione fatta per un singolo episodio di ubriachezza molesta trasformatosi in danni a spese della comunità è quello che ha visto protagonista un 23enne peserese incensurato che ha trasformato le sue pene d'amore in guai per la propria fedina penale. Reduce da una lite con la ragazza in preda ai fumi dell'alcol il giovane in questione ha infatti scelto un modo alquanto malsano di sfogarsi decidendo di fare irruzione all'alba di lunedì nella sede dell'ARPAM di via Barsanti e dopo essere penetrato da una porta sul retro degli uffici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle marche ha preso un estintore e ne ha svuotato l'intero contenuto fra gli uffici danneggiando stanze e documenti. L'irrazionale comportamento non è sfuggito a un dipendente dell'ARPAM sollecitato dall'allarme scattato al momento dell'effrazione. Allertata la polizia il giovane è stato trovato ancora sul posto appollaiato sul tetto dell'edificio dove ha accampato sbilenche giustificazioni come la ricerca di un gatto scomparso. Messo le strette si è potuto infatti ricostruire l'accaduto e nessuna giustificazione di pene d'amore è stata sufficiente a evitargli l'arresto. Ancora cronaca ma parliamo ora dell'arresto di uno spacciatore di cocaina di nazionalità albanese. Nel weekend appena trascorso la squadra mobile di Pesaro si è infatti appostata nei pressi dell'abitazione del sospettato in zona Monbaroccio e lo ha fermato mentre usciva. Il controllo con perquisizione personale che ne è conseguita ha consentito di sequestrare 13 dosi di cocaina conservate in una scatola di metallo per un peso complessivo di 10 grammi con le dosi suddivise in cinque pezzi da un grammo ciascuna e in otto dosi più piccole del peso di circa mezzo grammo. Nel portafogli di questo cittadino albanese sono stati inoltre rinvenuti mille euro sequestrati in quanto ritenuti frutto della precedente attività di spaccio. La successiva perquisizione all'interno dell'abitazione ha anche consentito di rinvenire e sequestrare altri 5.500 euro che erano nascosti e che sono da ricondurre alla fiorente attività di spaccio. Ma soprattutto gli agenti svitando il coperchio di una presa elettrica sotto lo specchio del bagno hanno trovato addirittura altri 80 grammi di cocaina e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Per l'uomo è scattato l'arresto con reclusione nella casa circondariale di Pesaro. È cominciata la terza settimana di Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro e di conseguenza è cominciata anche la terza settimana di persone in coda per i tamponi di fronte alle farmacie. una situazione che resta complicata ma che il sistema delle farmacie pesaresi al momento è in grado di gestire come ci ricorda il presidente di Aspes, Luca Pieri. Diciamo che il super lavoro rimane nel senso che le quantità sono rimaste quelle. Siamo riusciti almeno nelle nostre farmacie, nelle farmacie comunali e nel lab tamponale che abbiamo realizzato in Via Giolitti a fare in modo di calendarizzare durante tutto l'arco della giornata, tutte le ore di apertura, le richieste dei tamponi quindi le abbiamo spalmate e diciamo che pur nel super lavoro, pur nello stress a cui sono sottoposti tutti i nostri dipendenti, i farmacisti a cui va veramente un grande ringraziamento per il lavoro che hanno fatto sia durante l'emergenza Covid, quella stretta, quella legata ai lockdown e poi successivamente ma anche rispetto a come affrontare l'emergenza oggi legata al Green Pass. Questa cosa è un super lavoro però è gestibile, diciamo che anche gli stessi utenti hanno capito che riuscire a fare il tampone e ricevere il Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro nelle 48 ore successive, se fatto la mattina alle 7 o fatto la sera alle 18.30 comporta sempre le 48 ore di autorizzazione appunto come dicevo al Green Pass ad accedere ai luoghi di lavoro e di conseguenza abbiamo avuto un rilassamento rispetto alla grande pressione che le prime settimane, insomma i primi 10 giorni si è avuta su tutte le farmacie, su tutta la categoria dal punto di vista della richiesta. Oggi se vedete nelle farmacie sono molto diminuite le code, non tanto perché sono diminuiti il numero dei tamponi come dicevo prima, ma perché i tamponi che vengono realizzati sono spalmati durante tutto l'orario di apertura. C'è poi la problematica che il Green Pass obbligatorio ha la prospettiva di estendersi oltre il 31 dicembre. La difficoltà oggi che abbiamo anche nel proseguire sarà legata appunto al personale perché non si trova personale né farmacisti né infermieri né medici che sono disponibili ad essere assunti in via temporanea proprio per le esigenze che l'incremento di questo tipo di lavoro e della richiesta da parte degli utenti ha portato con il Green Pass. Marche Multiservizi informa che lunedì 8 novembre potrebbero verificarsi alcuni disagi nello svolgimento dei servizi ambientali a causa di uno sciopero nazionale proclamato su tutta la giornata dalle organizzazioni sindacali confederali di categoria e da una organizzazione non confederale. Marche Multiservizi però garantisce anche che saranno comunque assicurati i servizi minimi all'utenza. Dopo tre anni senza aumenti i panificatori della provincia di Pesero Urbino hanno deciso in maniera autonoma un aumento del prezzo del pane dal 1 gennaio 2022 che sarà applicato su tutto il territorio provinciale e che si aggerirà mediamente su un ritocco del listino del 20%. Si tratta di un adeguamento che si è reso necessario non solo per l'aumento vertiginoso di alcune materie prime su tutte la farina ma soprattutto per le spese generali alle quali le attività sono sottoposte. Oggi 2 novembre è anche il compleanno di una delle donne più longeve della nostra provincia. Parliamo di Elisa Clini, mamma degli imprenditori della storica ditta edile Mulazzani, Giuseppe e Girolamo che oggi compie 108 anni. Elisa Clini è nata a Urbino nel 1913, si è trasferì a Talacchio nel 1939 e poi a Bottega dal 1968 ad oggi. Il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, ha reso omaggio a nonna Elisa proprio nella sua casa di Bottega quest'oggi per portarle gli auguri di tutta la città di Vallefoglia ai quali aggiungiamo naturalmente gli auguri di tutta la redazione di Rossini TV. E nei giorni scorsi è arrivato nella provincia di Peso Rubino il produttore cinematografico hollywoodiano Arman Julian che ha visitato il futuro set di un prossimo film, un lungometraggio che sarà realizzato nella provincia di Peso Rubino e in particolare nel territorio di Monbaroccio. Monbaroccio e il santuario francescano del Beato Sante diventeranno un set hollywoodiano in compagnia di tanti altri territori della provincia di Peso Rubino. L'appuntamento è per la primavera del 2023, data indicata dal produttore statunitense Arman Julian per l'inizio delle riprese Nelle nostre terre del lungometraggio tratto dal libro Siamo qui, siamo vivi, il diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampata alla Shoah. Un volume scritto dal giornalista pesarese Roberto Mazzoli con prefazione della senatrice a vita Liliana Segre. Il film racconterà la vicenda del segretario della comunità ebraica di Milano Alfredo Sarano che salvò la vita ai 14.000 ebrei milanesi nascondendo le liste dei nomi della sua comunità ai rastrellamenti nazisti prima di fuggire con la sua famiglia di sette persone a Monbaroccio. Qui gli ebrei vennero protetti dai frati francescani del santuario del Beato Sante. Determinante per la loro salvezza fu il gesto del comandante tedesco della Wehrmacht Erich ed Erich. Il produttore Armand Julian accompagnato dal coproduttore pesarese Michele Mucciacito ha incontrato negli ultimi giorni gli amministratori del territorio che si prepara a trasformarsi in un grande set cinematografico. Siamo in una linea di quello che è il principio della memoria che come amministrazione comunale ci siamo da subito prodigati a portare avanti quindi nonché se ricordate qualche giorno fa la pedalata a Farchirkene con tutto quello che è il valore della memoria che il mio territorio e i miei concittadini tengono a portare avanti. Il mio ringraziamento va alle scuole che dal principio ci sono attivate con premi luci nel buio per la Shoah, all'architetta Iudi, all'insegnante, all'Antonia Caporiccia, la Bea Vincenzi, tutte le persone che dall'inizio hanno collaborato in questo percorso che oggi trova riscontro grazie a Armand Julian, questo produttore di Hollywood che ha visto in Monbaroccio un punto di riferimento per creare qualcosa di importante, che va a valorizzare Monbaroccio, va a valorizzare i suoi cittadini ma soprattutto va a valorizzare un territorio come la provincia di Pesaro Urbino e quindi speriamo che sia anche di buon auspicio e da volano per Pesaro, capitale della cultura 2024 e quindi che sia di un valore aggiunto per tutta la collettività. E si è conclusa la 74esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica. Rossini TV è stata presente alla premiazione di domenica di questa edizione del GAD 2021 e premiazione che vi mostreremo in uno speciale dedicato che andrà in onda venerdì 5 novembre alle 21.20. Intanto andiamo a scoprire tutti i premiati di questa rassegna nel prossimo servizio. Si è conclusa la 74esima edizione del GAD con il Festival d'Arte Drammatica che nella cerimonia di premiazione al teatro sperimentale ha incoronato Kraken, favola alla deriva, come spettacolo vincitore. All'opera di Patrick Quintal nell'allestimento della compagnia Teatro dei Dio Scuri di Campagna in provincia di Salerno va infatti il premio Arlecchino 2021. Kraken però è stata premiata anche con azzurra Liliano e Emiliano Piemonte in qualità di migliorattrice e migliorattore giovane del Festival. A vincere invece come migliorattore caratterista è stato Luca Napodano per Stravaganza. Il premio Don Gaudiano assegnato dalla giuria giovani è andato a Smith & Wesson di Alessandro Baricco, il premio Arnaldo Ninchi di gradimento al pubblico a questi fantasmi. Il riconoscimento Ivo Scherpiani a migliorattore per Alfonso Forte in Ubu Re, il riconoscimento Eva Franchi a migliorattrice per Patrizia Migiano in Edipo Re. E ancora il premio Antonio Conti alla miglior regia è stato assegnato a Michele Masullo e Beppe Colella per tre sull'Altalena, premiata per i migliori costumi la compagnia teatrale Satirion, miglior scenografia Stefano Merlo per la locomotiva, Ubu Re vince infine il premio miglior videoclip offerto proprio da Rossini TV. Siamo molto soddisfatti della qualità soprattutto, del clima, della partecipazione e della stima che hanno dimostrato tutti nei confronti di questa iniziativa, di questo festival. È un festival importante che onora la città di Pesaro e ce la mettiamo tutti affinché questo possa essere sempre più uno dei fiori all'occhiello di questa città. Nonostante comunque le difficoltà del periodo, le difficoltà dell'associazione che ha comunque vissuto un momento anche di transizione, di cambiamento e con tempi molto costretti perché poi la selezione è stata potuta fare solo a fine estate, a fine agosto, causa i problemi covid e quindi in poco tempo siamo riusciti a organizzare un'edizione veramente bella. E la cosa che mi piace più dire è che i complimenti più sinceri non sono quelli che ci facciamo solo ovviamente, ma quelli del sorriso delle compagnie, il piacere delle compagnie di essere ospiti del nostro festival, un piacere che non è solo quello di salire sul palcoscenico ma quello di essere ospiti e questo ci rende molto orgogliosi di un territorio veramente ricco e che devo dire guardano tutto con grande invidia. E questo vuole essere anche uno stimolo forse per noi pesaresi a guardare con più orgoglio a quello che siamo in grado di offrire perché il punto d'osservazione del festival ci dice che l'Italia guarda Pesaro veramente con grande ammirazione per quanto riguarda l'offerta culturale. E concludiamo con una notizia di sport e in particolare di calcio. Domenica alle 14.30 allo stadio Benelli, la vispesero sfiderà la reggiana prima in classifica. Un big match per il quale la società ha deciso di organizzare la cosiddetta giornata bianco-rossa, ovvero una partita in cui non saranno validi gli abbonamenti ma anche i tifosi fidelizzati saranno chiamati ad acquistare il biglietto per una partita assolutamente da non perdere. Fra una vis che domenica nell'1-1 di Grosseto ha ottenuto il suo settimo risultato utile consecutivo e una reggiana ancora imbattuta in campionato. E con questa notizia dedicata agli appassionati di calcio e di vispesoro si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Vi ricordiamo ora la nostra prima serata in questo martedì 2 novembre, appuntamento alle 21.20 con Confcommercio, Pesaro e Urbino e l'approfondimento in studio con Amerigo Varotti, intervistato dalla nostra Emanuela Rossi. L'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa della provincia di Pesaro e Urbino che va in onda tutte le mattine in diretta alle 7.20 dal lunedì al sabato e poi nelle repliche che vedete in grafica alle 8.15 alle 12.30, alle 14 e alle 18. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi auguro una buona serata con i nostri programmi.